Ciao, sono Giulia. Oggi siamo qui per un altro appuntamento col mondo del design, in particolare Made in Italy. Siamo sul terrazzino di Fabio Verdelli. Andiamola a conoscere. Ciao Fabio, come stai? Ciao, bene. Allora, raccontaci qualcosa di te in breve. Allora, io ho studiato il Politecnico di Milano, ho studiato design, volevo fare tutt'altro nella vita, ma come spesso accade poi mi sono appassionato di progetto e circa dal 97-98 faccio il designer. Mi piace veramente cambiare spesso quello che faccio, quindi dal transatlantico al cucchiaio non dico quasi mai di no. La prima cosa a cui penso non è nell'estetica e nella funzionalità, penso al contesto di utilizzo, quindi penso a dove deve andare e a chi deve servire o piacere. Quindi da lì poi deriva la sua forma, deriva la sua funzione, deriva il suo aspetto in generale. La poltrona che hai visto è nata per un motivo molto particolare, che era, diciamo così, la necessità di Linea Pelle, che è l'associazione dei conciatori italiani di pelle, di dimostrare le caratteristiche straordinarie della pelle italiana. E quindi nasce in realtà come una sorta di elemento espositivo a sua volta, per cui è nata per essere molto particolare, molto scenografica. Cercare di cogliere quello che è il tuo modo di pensare, il tuo modo di vivere, per riuscire a disegnare qualcosa che va bene veramente, non solo per te, ma comunque che è pensato proprio per te. Noi siamo, diciamo così, siamo dei professionisti, quindi siamo abituati a organizzare queste informazioni che ci arrivano e ci aiutano molto perché ci fanno capire quale potrebbe essere la strada più giusta da intraprendere fin dall'inizio. Fabio, qual è l'aspetto più divertente e più interessante del tuo lavoro? Beh, probabilmente quando mi ritrovo al tavolo a disegnare con i pastelli come un bambino e penso spesso che mi pagano per fare questo e quindi mi dico fantastico. E da questa fantastica poltrona di cui abbiamo tanto parlato con Fabio vi saluto e vi ringrazio.